La Giunta Mascalese ha approvato lo schema di bilancio per l'anno in corso. Sullo schema dovrà esprimersi con proprio parere il Collegio dei Revisori dei Conti, per poi trasmetterlo al Consiglio Comunale per l'approvazione finale. Intanto, il prossimo 1 dicembre, i revisori decideranno l'approvazione del rendiconto 2015, ritornato in Giunta dopo che il Collegio ne aveva rilevato alcune anomalie. È stato approvato il bilancio 2016 dopo aver lavorato su quelle che erano delle criticità trovate da parte dei Revisori dei Conti per il consuntivo 2015. Tutto questo nasce, questo tipo di criticità, dando, per quanto riguarda il consuntivo 2015, da un difetto di organizzazione da parte della Regione, perché nel momento in cui, durante l'anno, nel mese di luglio circa del 2015, vengono cambiate le regole con le quali attuare il sistema di bilancio, cioè passare da un bilancio che era ordinario da diversi anni, che veniva utilizzato come schema di bilancio e di gestione del bilancio, a un bilancio armonizzato, che ha delle filosofie anche di impostazione del bilancio completamente diverse da quello che era il sistema precedente. Questo ha creato delle difficoltà che, giustamente, in senso positivo, sono state fatte rilevare da parte dei Revisori dei Conti, le abbiamo sistemate e, pertanto, abbiamo riapprovato il consuntivo. Tra l'altro, questo ci ha consentito di far rilevare che il positivo del consuntivo 2015, che era stato identificato in una somma di circa 10.000 euro, nella rimodulazione delle cifre è stata vista che la somma era molto maggiore, cioè quella che aveva risparmiato il Comune. Grazie a questi risparmi adottati per la seconda fase del 2015 e, soprattutto, poi lo vedremo anche nel 2016, con il bilancio 2016 come adozione di un sistema di risparmi, ci ha consentito di non aumentare le tasse per il 2015 e il 2016, che questo non è una nota positiva, è una nota negativa aver avuto un bilancio da portare nel 2016 a fine anno. Oggi abbiamo il bilancio approvato in giunta, ripeto, se riusciamo ad averlo entro il 20 di questo mese, del mese di dicembre e del mese in grande, probabilmente qualche piccola opera in più di quello che è stato fatto dall'ordinario, riusciremo a farlo. Se no, tutto è pronto per il 2017, dove quel bilancio speriamo noi di farlo non oltre il mese di febbraio del 2017. Sempre con l'intenzione di non aumentare le tasse, perché l'obiettivo dell'amministrazione è stato il risparmio su tanti servizi, ma nello stesso tempo questo ci consente di non aumentare la tassazione in un momento di crisi come questo, che è importante. Nonostante tutto non vogliamo perdere l'occasione di fare degli investimenti che possano realizzare nel nostro territorio quelle occasioni di lavoro necessarie.